Siamo all'interno della Galleria Coronata, è iniziato il nostro viaggio verso il ponte di Genova San Giorgio. Poco fa, alle 22 esatte, sono state tolte le transenne che bloccavano l'ingresso alla Galleria di Coronata e a un primo gruppo di automobili occupati da giornalisti della stampa locale, nazionale e internazionale, è stato concesso di passare all'interno della Galleria Coronata e poi, adesso, lo vedete, sopra il nuovo ponte di Genova San Giorgio. Ecco, in questo momento, non nego che, in effetti, sono immagini che colpiscono. Stiamo attraversando il ponte di Genova San Giorgio. Si possono intravedere i piloni rossi, verdi e bianchi. Potete vedere la città sullo sfondo della luna. Ecco, ci siamo sul nuovo ponte di Genova San Giorgio. Siamo entrati al casello aeroporto, abbiamo attraversato la Galleria Coronata e ora siamo tra i primi, vi stiamo accompagnando insieme a noi in questo viaggio, primo viaggio all'interno del ponte di Genova e San Giorgio. Vedete anche i mezzi di autostrade con gli ultimi virili, insomma, i ritocchi sono stati terminati pochi istanti fa. L'inaugurazione era prevista intorno alle 18, ma è salitata alle 22 per un problema tecnico. Ecco, sentite, dall'altra parte c'è il corteo di macchine che festeggia con il classo. Anche se non vi ho detto, la festeggiare non c'è da adesso, visto che questo ponte è nato sulle ceneri della vita di 43 persone che sono appunto morte durante il crollo di Ponte Morandi il 14 agosto del 2018. Eccoci, siamo all'incirca la metà, lo vedete il ponte ha cambiato comunque rispetto a prima, sono aumentate le corsie e c'è una corsia di emergenza. E' cambiato anche il limite di velocità che qui, lo ricordiamo, è fissato al massimo, due tante, fino a un piccolo. Eccoci, il ponte è terminato. Stiamo andando verso Ginovauro. Ecco, da oggi 4 agosto, dalle 22 di oggi, martedì 4 agosto, ovvero da esattamente 9 minuti, la viabilità a Genova attorno a quella originaria di due tramite Genova di Moquilo, sto ponte sopra il Volcemera. Lo avete attraversato insieme a noi, l'abbiamo accompagnato a vederlo insieme per la prima volta. La riapertura è avvenuta appunto alle 22 dal portello di Genova Aeroporto. Un primo gruppo di macchine della stacca ha avuto attraversato in direzione di Genova Ovest, mentre dall'altro lato sono state fatte le transenne e sono stati i primi genovesi, i primi automobilisti ad attraversare. Ecco, siamo uscendo a Genova Ovest e con questo primo viaggio vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione.